Siamo puntualissimi, benvenuti ragazzi a questa lezione del professor Antonio Basile. Il professor Basile è un grosso esperto di addome ed è direttore della cattedra di radiologia all'Università di Catania. Quindi io voglio ringraziare Antonello e tutta la sua scuola per la disponibilità e per l'amicizia che consente di portare a termine tante cose, tra cui anche questo progetto di Specializziamoci Insieme. Oggi, nello spirito del proseguio della nostra attività sull'emergenza, parleremo dell'ischemia mesenterica acuta. Detto questo, io lascio la parola ad Antonello e mi metto come discente in platea per prendere gli appunti. Un abbraccio. Grazie, un abbraccio a te Alessandro. Ti ringrazio per l'introduzione, ringrazio per l'invito, per la mia scuola, per far parte di un progetto italiano. Come sai, io sono direttore da molto poco, per cui è del genere. Partiamo subito con l'ischemia mesenterica acuta, che è comparsa. Aspettate un attimo. Si vede la presentazione? Sì, prof. Ok, perfetto. Allora, guardando un po' il programma, l'argomento a me ha segnato la patologia acuta del grosso e piccolo intestino. Vedendo un po' il programma, parlate di addomi acuto, parlate di perforazioni, e alla fine probabilmente un argomento molto particolare, l'ischemia mesenterica acuta. Anche perché, pur essendo un qualcosa di estremamente antico, ancora oggi praticamente ha delle nuove scoperte, delle raffinatezze. Allora, comincio con questa frase, che è del 1926. L'occlusione dei vasi mesenterici è una condizione nella quale la diagnosi è impossibile, la prognosi è senza speranza e il trattamento è inutile. E ho messo questa foto, questa immagine giù, perché alla fine quel personaggio oggi, nel 2022, è il radiologo. Confutare questa sentenza, diciamo, del 1926 è oggi radiologo, sia dal punto di vista diagnostico, sia dal punto di vista interventistico. Sono anche e soprattutto radiologo interventista, quindi proveremo a fare una carrellata sia della diagnostica, sia dell'interventistica. Avremo un'agenda, chiaramente, e diciamo subito che l'ischemia mesenterica acuta rappresenta un inadeguato apporto ematico all'apparato gastrointestinale ed è conseguente un insulto ischemico e un infiammatorio. In assenza di trattamento, crea una necrosi della parete intestinale. Scusate, sulla destra io vedo delle... Ok, perfetto. Andiamo un po' a vedere l'anatomia. Il tributo celiaco pastolarizza preferenzialmente lo stommo che il duodeno, l'arteria mesenterica superiore, il digiuno, l'ilio e il colon prossimale, fino alla flessura epatica, e l'arteria mesenterica inferiore, il colon distale, retto prossimale. Poi abbiamo tutta una serie di arcate, di anastomosi, per esempio le arterie pancreatico-duninali che connettono il tributo celiaco con l'arteria mesenterica superiore, l'arcate riolano e l'arcate marginale drammond che connettono la mesenterica superiore con l'arteria mesenterica inferiore, e infine l'arteria rettale superiore che si anastomizza con l'arteria rettale media e l'arteria rettale inferiore e in questo rappresenta un'anastomosi tra l'arteria mesenterica inferiore e il ramo dell'arteria pudenda e dell'arteria iliega interna. Ci sono anche dei vasi e dell'arcate meno conosciuto come l'arcata intermesenterica di Villemin e l'arcata di Riobranco che in un certo senso mette in comunicazione le pancreatico-duninali superiori ed inferiori. Infine abbiamo l'arco di Buller presente nell'1,4% che è un vasso che mette direttamente in comunicazione le porzioni prossimali all'arteria mesenterica superiore del tipo celiaco, l'arcata di Kirk che è Metinco che è l'area gaso-diploica destra con quella che è la gaso-diploica di sinistra. Anche l'arteria di Moscovitz che connette il segmento prossimale all'arteria collica media e il ramo ascendente dell'arteria collica di sinistra. Cosa da sapere è che ci sono dei segmenti dell'intestino, l'apparato gaso-intestinale che sono più proni a un evento ischemico questi sono il punto di Griffith, il segmento critico di Reiner e il punto di Sudek. Il punto di Griffith rappresenta una zona di criticità di anastomosi tra l'arteria mesenterica superiore in particolare con la colica media e con la colica sinistra, con il ramo ascendente. E in un certo senso ci possono essere le anastomosi che sono assenti e quindi rappresentare una zona, un'area di maggiore rischio ischemico. Esattamente come il segmento critico di Reiner, il segmento critico di Reiner va prossimalmente dall'arteria colica media fino all'arteria iliocolica e l'occlusione repentina di questo segmento di Reiner determina ischemia estesa dal legamento di Trice alla flessura splenica del colon. Questo perché mette totalmente fuori uso anche l'arcata di Drummond. E infine il punto critico di Sudek, conosciuto dal 1907, è una sorta, rappresenta il punto in cui nasce l'ultima arteria praticamente sicomidea e la chiusura può provocare praticamente un fenomeno ischemico. Per quanto riguarda la leziopatogenesi, noi riconosciamo delle forme occlusive di ischemia mesenterica che sono dovute a un embolo, a un trombo, come vedete, e delle forme non occlusive in cui abbiamo una riduzione di flusso sia nell'arteria mesenterica superiore che nell'arteria mesenterica inferiore. E in un certo senso le forme occlusive ultimamente hanno un po' simulato un interesse maggiore. Questo è un articolo che non è recentissimo perché è del 2004, però fondamentalmente è la revisione sistematica più citata al mondo tuttora da articoli del 2022. In un certo senso correla 45 studi con circa 3.700 casi e di fatto ci dà una correlazione di quella che è la patologia e la mortalità globale dei pazienti che sono affetti con ischemia mesenterica. Vediamo che da una mortalità altissima perché stiamo parlando del 70%, ripeto, nel 2004, andiamo anche a una correlazione per tutti quelli che sono le singole evidenze, in particolare per esempio l'ostituzione arteriosa va da un'embolia al 69% fino praticamente all'80% alla trombosi. Poi abbiamo la venosa, la trombosi venosa che ha l'occlusione venosa circa il 44% e la non occlusive mesenterica schiena, la NOMI, cosiddetta NOMI, che ha una mortalità addirittura quasi dell'80%. Quindi consideriamo che questa paradossalmente, non paradossalmente, però è una condizione in cui la mortalità è altissima. vedremo come in realtà la mortalità in questa corte di pazienti è dovuta alle condizioni cliniche del paziente che sono alla base stessa del fenomeno ischemico. Cos'è la NOMI? Non è altro praticamente che una riduzione di flusso che è dovuto soprattutto a un'ipovolemia, allo shock, alle modialisi e alla vasocostrizione. se noi volessimo identificare un target di pazienti nei quali dobbiamo alzare cosiddetta la bandierina, il nostro alert, per vedere, per considerare anche quella che è la NOMI, tutti i pazienti che ci vengono, ci provengono da rinanimazione, terapie intensive, postchirurgici, sono tutti i pazienti che teoricamente hanno delle condizioni che sono risponenti ad una NOMI. Vediamo, per quanto riguarda l'ostruzione arteriosa, che rappresenta il 60-80% delle ischiemie acute, possiamo avere un'origine embolica, un'origine trombotica e una dissezione vasculite delle condizioni che ne favoriscono l'insorgenza. Poi abbiamo la trombosi venosa, 5-10%, normalmente nelle giovani donne con uno stato ipotrombotico, si costruisce di neoplasie, eccetera, e infine l'ischemia mesenterica non occlusiva, come dicevo, un'ipovolemia generalizzata con un shock e vasocostrizione splacnico. E diciamo che comunque l'ischemia mesenterica non occlusiva, la NOMI, è presente nel 15-20%, quindi non sono numeri bassi. Tornando all'eziopatogenesi, noi sappiamo che fino a 12 ore il nostro apparato caso intestinale è in grado di sopportare l'introduzione di flusso fino al 75%. Poi successivamente cosa succede? Succede che avviene il cosiddetto danno ischemico, che normalmente si verifica irreversibile entro le sei ore. Normalmente le sei ore sono un cut-off per quanto riguarda, vedremo il trattamento, ma per quanto riguarda il passaggio da uno stato ischemico a uno stato ischemico irreversibile. In più abbiamo il cosiddetto danno da riperfusione, ovvero quando noi abbiamo un'ischemia vedremo che ci sono dei meccanismi sia di ricanalizzazione del trombo ma anche di collaterializzazione che mi permettono di limitare in qualche modo quella che è l'ischemia di una porzione d'intestino però dobbiamo sottolineare che questa riperfusione se non è se non avviene nei tempi giusti può provocare il cosiddetto danno da riperfusione ovvero siamo arrivati troppo tardi. Infatti ho sottolineato il danno ischemico da riperfusione nella ischemia da causa arteriosa da occlusione arteriosa e nella noni perché in queste due evidenze noi abbiamo un danno di ischemia da riperfusione che fondamentalmente si corrella perfettamente con un setting di reperti radiologici totalmente peculiari. Questi sono ovviamente i fattori di rischio per quanto riguarda la trombosima esenterica ovviamente l'eterosclerosi il dolore post-prandiale la perdita di peso l'embolia mesenterica la fibrillazione atriale come vedremo molto spesso quando sospettiamo una ischemia mesenterica embolica molto spesso abbiamo emboli anche in altri organi che ci fanno alzare la nostra famosa bandierina di attenzione come l'ischemia mesenterica non occlusiva nell'insufficienza cardiaca o come dicevi in tutti gli stati di insufficienza multiorgano e quindi siamo attenti a tutti i pazienti che provengono da sono post-chirurgici che provengono da rinimazioni perché probabilmente sono il target principale di pazienti riconosciamo nella fisiopatologia dell'ischemia acuta mesenterica arteriosa una fase espastica in cui abbiamo dei crampi addominali la nausea e il vomito una fase paralitica e la fase peritonitica in cui abbiamo lo shock e la cosiddetta MOF questa è la distinzione fra fase precoce e fase tardiva in cui abbiamo anche un'evidenza anche laboratoristica per esempio i lattati che sono molto specifici nella fase tardiva noi abbiamo la necrosi transgurale abbiamo la cosiddetta ischemia irreversibile che dobbiamo evidenziare e che poi vedremo rappresenta il cut-off il cosiddetto limite per il trattamento interventistico anticipiamo fino a un certo punto vedremo come ci possiamo come possiamo oltrepassare questo limite delle sei ora il radiologo perché è importante il radiologo è importante perché l'ATC è la metodica di prima scelta in letteratura ci sono anche evidenze dell'utilizzo dell'ecografia qualcosa di risonanza ma assolutamente TC perché guardate che numeri sensibilità 93% specificità 96% noi andiamo a vedere addirittura in letteratura in letteratura i pazienti cioè le cohorti i pazienti che sono andati incontro a una TAC addirittura hanno avuto un miglioramento di quello che era la sopravvivenza quindi capiamo poi l'impatto di quello che è stata l'utilizzo dell'ATC in questi pazienti qui per quanto riguarda il protocollo non vorrei tanto parlarne perché è un protocollo standard con una fase arteriosa una fase portale una fase tartiva un mezzo di contrasto se è possibile alta concentrazione in buona quantità la cosa principale è acquisire le sequenze importanti le sequenze necessarie la fase basale è necessaria la fase basale mi dà idea delle calcificazioni ateromasiche perché le calcificazioni ateromasiche perché vedremo che per esempio la parte trombotica dell'occlusione arteriosa parte molto spesso in corrispondenza di calcificazioni ateromasiche normalmente ostiali ma anche per esempio nella Nomi la Nomi si è visto da lavori recentissimi che ha un outcome molto più negativo nel momento stesso in cui si correla a una patologia aterosclerotica ma anche possiamo vedere l'iperdensità del vaso occluso e il trombo recente l'iperdensità di parete che attenzione rappresenta per alcuni l'elemento più il reperto più specifico di ischemia trasmurale di necrosi trasmurale spesso diciamo e lo dirò anch'io come la pneumatosi probabilmente è il segno più conosciuto però attenzione la pneumatosi non per forza vedremo si correla un'ischemia trasmurale un'ecrosi trasmurale probabilmente l'emorragia poi vedremo perché di parete rappresenta proprio lo stadio finale e vedremo perché ma cosa dobbiamo descrivere nel nostro reperto ovviamente dobbiamo definire le cause i vasi interessati i vasi collatorali l'estensione del danno di parete le caratteristiche delle ansie vedremo il calibro il lume la parete le caratteristiche del mesentere molto importanti e della cavità peritoneale il nostro reperto deve in un certo senso essere completo in tutti questi dati le alterazioni di parete possiamo avere una riduzione di calibro della parete il cosiddetto parete paper like a foglio di carta attenzione sicuramente nell'ischemia arteriosa e nella nomi ma nella patologia della nomi l'ischemia arteriosa senza riperfusione come vedremo il danno da riperfusione la congestione il target sign con la congestione della parete che è propria dell'ischemia su base venosa i cambiamenti del mesentere lo vedremo più specificamente il cosiddetto mesentere palido oligoemico dell'ischemia arteriosa della nomi oppure quello con gesto dell'ischemia venosa oppure del danno da riperfusione i vasi ovviamente il vaso è il segno diretto sia di embolia come in questo caso di trombosi venosa dove vediamo il vaso aumentato di calibro con una iperdensità attorno questo è quello che succede nell'embolia anche polmonare qui abbiamo praticamente il cosiddetto l'iperemia che è data alle vasi a vasorum e all'interno il trombo che allarga giustamente il vaso oppure il catoff il segno del catoff questa è una trombosi di un'arteria l'arteria mesenterica superiore si vede perfettamente il difetto di riempimento oppure il vaso sottile con l'infiltrazione di posa continuiamo a evidenziare le varie classificazioni abbiamo l'insufficienza vascolare l'insufficienza vascolare può essere occlusiva e non occlusiva come abbiamo detto e a questo si correlano tutti dei segni dei reperti TC di parete del mesentere e del lume intestinale cominciamo con quella che è l'ischemia arteriosa mesenterica occlusiva che rappresenta ovviamente la porzione della fetta maggiore normalmente può essere nel 50% dei casi è embolica nel 30% dei casi è dovuta a una trombosi normalmente su placca e nel restante caso nel restante casi può essere dovuta a una dissezione arteriosa che può essere o una dissezione un'estensione di una dissezione ortica oppure può essere una dissezione isolata per esempio mediolisi dell'arteria mesenterica superiore per quanto riguarda la parte embolica normalmente abbiamo a che fare con un'occlusione che non è ostiale lo vedremo anche nei casi trattati con interventistica non si correla con l'eterosclerosi il vaso interessato infatti è sempre interessato più distalmente sempre normalmente non diciamo sempre perché il sempre non esiste il cosiddetto questo è il cosiddetto cutoff sign e rim sign è il difetto di riempimento centrale o eccentrico del vaso nella embolia polmonare questo identifica praticamente un segno che è il segno della mentina polo vedete praticamente la trombosi e vedete anche come spesso soprattutto nella causa embolica ci viene in aiuto la presenza di queste aree schemiche uniformi con base eccentrica che rappresentano praticamente piccoli emboli in altri organi la trombosi venosa la trombosi arteriosa pazienti con malattia aterosclerotica diffusa normalmente sono anche pazienti che hanno in passato avuto una cosiddetta angina abdominis che rappresenta in un certo senso un'ischemia cronica e il vaso è interessato più prossimamente perché la terosclerosi normalmente dei vasi splantosi è prossimale e quindi è lì che si crea praticamente la trombosi arteriosa e infine la dissezione come detto può essere una estensione di una dissezione ortica o può essere una dissezione focale vedremo successivamente quando parleremo anche dell'interventistica quello che ci è successo una notte con una praticamente dissezione in una mesenterica superiore in due pazienti nello stesso momento in due ospedali della provincia di Catania vediamo come evolve nel tempo perché abbiamo detto che il tempo è importante successivamente utilizzeremo un termine timis bowel abbiamo visto che timis brain è diciamo la nostra anche per quanto riguarda l'intestino vediamo il mesentere palido l'ilio riflesso spastico a questa ischemia l'intestino si contrae e c'è un iniziale quota fluida e il mesentere è il primo a monificarsi diventa oligoiemico questo ripeto in tutte quelle che sono le occlusioni arteriose nella nomi con soltanto ischemia senza fenomeni riperfusivi successivamente sempre con mesentere palico posso avere un ilio riflesso ipotonico è la cosiddetta fase paralitica della quale se non ho fenomeni di rivascularizzazione di riflusione io ho soltanto il segno dell'assottigliamento il paper light della parete dell'intestino e il fluido peritoneale infine nelle ore successive io posso avere il classico ilio paralitico i livelli di reeri la dilatazione intestinale il fluido peritoneale e se io ho fenomeni di riperfusione precoce o meglio in presenza di una cosiddetta viable wall cioè praticamente una parete che può essere che posso portare alla rivascularizzazione ho soltanto un spessimento ho il cosiddetto edema di parete se invece ho una riperfusione tardiva ho un'iperdensità basale significa che all'interno della parete intestinale c'è un'emorragia c'è sangue e quindi la parete là ha una necrosi irreversibile riassumendo reperti di ischemia arteriosa ovviamente occlusione dell'arteria mesenteria superiore e dei suoi rami cambiamenti intestinali riflettono la riduzione del flusso e chiaramente il segno principale che posso vedere è l'assente enhancement mucosale in più posso avere lo spessore di parete che è variabile però attenzione è variabile in relazione ai fenomeni di riperfusione se non ho fenomeni di riperfusione di parete né precoci né tardivi quello che ho è il paper thin wall cioè è la parete intestinale perfettamente assottigliata in più posso avere la dilatazione delle ansi intestinali i livelli traere e la pneumatosi intestinale i segni tc di ischemia arteriosi irreversibili quindi quali sono se ho solo ischemia il paper thin wall sign più ilio paralitico la pneumatosi l'aria nei vasi portali o mesenterici considerate che lo diremmo successivamente la pneumatosi quando si correla con il gas nei vasi portali o mesenterici è più specifico di necrosi trasmurale pneumo peritoneo fat stranding mesenterico e ascite anche questo deriva dai fenomeni di ripertusione e assenza di nansumenti di parete abbiamo l'ischemia trombosi in una nostra profonda il target di paziente è un po' diversi perché siamo in presenza di pazienti giovani solito delle donne abbiamo dei fattori di rischio come coagulopatie infezioni anche l'ipertensione portale il cirrotico per esempio un classico esempio di paziente a rischio di trombosi venosi infatti spesso nel cirrotico vediamo una trombosi della venator le manifestazioni cliniche abbiamo il dolore addominale il sangue con le feci le ematochezze l'anemia l'ipopolimia e cosa succede nella trombosi venosa dobbiamo considerare che abbiamo una trombosi venosa sì ma abbiamo un flusso alteroso normale ed è questa distinzione questa differenza che determina quello che è il reperto radiologico perché io ho una stasi venosa che determina un aumento della pressione paritale un edema della parete un spessimento di parete allora l'ispessimento di parete è classico della trombosi venosa ed è precocissima la trombosi venosa nel caso invece tornando prima dell'ischemia arteriosa sia occlusiva sia non occlusiva quell'aumento di parete quell'ispessimento di parete teoricamente io ce l'ho esclusivamente se sono presenti fenomeni di riperfusione quando ho un'inadeguata riperfusione io ho una riduzione successivamente del flusso arterioso e l'infarto dell'anecosi che ripeto è meno frequente rispetto a quella che noi vedevamo nella patologia occlusiva non occlusiva dell'arteria quindi i reperti TC sono il target sign l'incremento del calibro della vena se noi vediamo il trombo acuto come abbiamo visto il difetto endoluminale del vaso venoso la riduzione del calibro della vena in questo caso siamo in presenza di una trombosi cronica la congezione vascolare dei rami collaterali al vaso che determina quello che è l'edema del mesentere il fat stranding quindi l'insudiciamento del mesentere e l'ispessimento della parete intestinale l'evoluzione del tempo fat stranding e versamento fluido vedete qua come è insudiciato il mesentere e c'è una congestione totale di quelli che sono i vasi qui vedete il ramo della vena mesenterica inferiore occluso ecco il passare del tempo io ho che cosa l'ispessimento della parete l'ispessimento della parete sottolineo è proprio della trombosi venosa dell'ischemia venosa mesenterica ed è precocissima nel segno caratteristico quindi vediamo qui abbiamo il fat stranding il versamento e l'ispessimento della parete intestinale altra cosa la pneumatosi la pneumatosi intestinale è il gas all'interno della parete intestinale ci sono due teorie c'è una teoria secondo la quale si è in presenza quasi di uno sfaldamento mucosale quindi abbiamo quasi una migrazione di batteri all'interno della parete e quindi quelle bollicine sarebbero teoricamente di idrogeno altra teoria è quella che proprio l'ispessimento stesso la congezione aerea all'interno dell'intestino faccia passare proprio quest'area endoluminale all'interno della parete proprio per questa rottura della barriera mucosale e vediamo arriviamo alla fine a quella che la nomi non ho nessuna ostruzione vascolare ho uno stato di basso flusso con ipoperfusione e vasocostrizione splatica quindi diciamo che in un certo senso il fatto che siamo di fronte a una patologia praticamente ischemica deriva principalmente dallo stato emodinamico del paziente io ho vasi di ridotto calibro ed è il segno principale addirittura si pensa ancora oggi qualcuno che la geografia sia il gold standard per la nomi perché mi determina praticamente quelli che sono la riduzione di calibro del vaso anche se nel 2022 parlare di arteriografia diagnostica è veramente veramente a mio parere fuori luogo ma vediamo questa vena cao inferiore che è ridotta di calibro vediamo queste senosi regolari diffuse all'arterio mesenteria superiore nel contesto di un calibro assolutamente ridotto la nomi diagnosi difficile perché l'imaging è comune con altre alterazioni coinvolgimento del piccolo intestino abbiamo una riduzione di calibro dei rami arteriosi collaterali l'arterio mesenteria superiore che è il fatto principale elemento principale questa sorta di alternanza il cosiddetto stringent sausages che significa stenosi e dilatazione dei rami arteriosi abbiamo detto la pneumatosi e abbiamo detto questi che sono i basi mesenterici molto stirati e molto sottili per riassumere se noi parliamo di occlusione arteriosa quindi senza fenomeni riperfusivi noi abbiamo una riduzione o senza enanze parietale del paper timbo o il sign questi sono gli elementi caratteristici quando parliamo di trombosi venosa mesenterica gli elementi caratteristici sono il marcato ispessimento di parete intestinale per l'edema per la congestione che è data dall'occlusione venosa ma dalla persistenza almeno iniziale di una perfusione arteriosa col fat stranding e l'edema del mesenteric nella nomi abbiamo l'assenza di ostruzione vasale i segni angiografici tipici e segni di ipoperfusione spiancnica consideriamo che l'assenza di ostruzione vasale noi possiamo avere anche evidenze di aterosclerosi come dicevo nella nomi e addirittura la presenza di aterosclerosi rappresenta un elemento negativo per l'atcam dei pazienti con nomi la semiotica quindi abbiamo l'ispessimento della parete intestinale 1-3 mm superiore a 1-3 mm abbiamo il target sign abbiamo iperdensità della mucosa ipodensità della sottomucosa e iperdensità della tonaca muscolare abbiamo detto questo elemento si ha dalla fase precoce della dell'ischemia venosa alla fase in un certo senso riperfusiva ma riperfusiva buona quando ancora non ho l'emorragia quindi riperfusiva che probabilmente salverà quell'anza nel caso dell'occlusione arteriosa nella nomi con fenomeni riperfusivi in fase precoce poi posso avere il papertin sign abbiamo detto questa dilatazione dell'intestinale con questa parete molto assottigliata poi ho la cosiddetta iperdensità della parete intestinale imbasale che è presente attenzione sia nella venosa sia nell'arteriosa ma è evidenza di due fenomeni differenti perché nel caso dell'occlusione arteriosa quell'iperdensità murale è segno di riperfusione dopo un insulto ischemico ma una riperfusione che dà un danno ischemico un danno riperfusivo perché provoca un'emorragia sotto mucosa intramurale nel caso della venosa quindi di un'ischemia venosa io ho l'aumento della pressione di parete dopo una trombosinosa che mi crea questa congestione che porterà successivamente all'emorragia intramurale poi abbiamo la dilatazione intestinale la regola del 369 l'intestino tenue maggiore di 3 il cono maggiore di 6 il cieco maggiore di 6 ovviamente non è che 8.9 non sia dilatazione il cieco e 9.1 lo sia chiaramente si fa una sorta di valutazione generale una dilatazione intestinale che è provocata dal blocco del riflesso cristaltico l'ischemia trasmurale che crea una traslutazione in fluido e infine la dilatazione intestinale l'alterazione di enhancement di parete qui si vede perfettamente quest'anza che non ha una perfusione di parete rispetto a quest'altra stessa cosa da questa parte anche il fatto che non siano aria adiacenti per esempio nella nomi io do le aree schemiche che normalmente non sono adiacenti e questa è anche una caratteristica dell'anoclusimese intericchischima anche in questo caso vedere la differenza tra anse non perfuse e anse perfettamente perfuse e anche in coronale l'utilizzo delle ricostruzioni coronale sagittali è molto importante anche l'iperenancement arterioso che è classico dello shock bowel è dato dalla bassa costruzione splanchnica alla bassa perfusione del cosiddetto shock bowel prima matosi intestinale ne abbiamo parlato prima abbiamo queste due teorie sulla caratteristica del gas all'interno della parete altra specificità bassa sensibilità per qualcuno è il segno della necrosi però in realtà quando si correla alla presenza di gas nei vasi portali probabilmente la sensibilità la specificità aumenta la sensibilità aumenta questi sono infatti i lavori che sottolineano questo addirittura nel 47% dei pazienti con ischemia intestinale acuta e pneumatosi addirittura alla chirurgia la parotomia esplorativa si aveva un intestino vitale solo una parziale ischemia senza infarto trasmurale e questo è un lavoro di AGR nel 2012 che appunto dice che la pneumatosi intestinale quando si associa con la pneumatosi portomesenterica probabilmente è maggiore ha un maggiore rilievo per quanto riguarda il segno dell'infarto trasmurale l'ischemia trasmurale infine il fat straining e la scite ovvero l'elevata pressione venosa e la congestione che noi abbiamo soprattutto nella parte venosa con la sovrinfezione dell'intestino ischemico che abbiamo nella parte finale quando abbiamo lo sfaldamento praticamente della barriera mucosa nel danno della riperfusione abbiamo qualcosa di differente come dicevamo abbiamo le petecchie mesenteriche abbiamo la scite abbiamo l'iperdensità della parete intestinale che come dicevo è un'evidenza di emorragia murale e l'ispessimento della parete quando sono in presenza di questi fenomeni riperfusivi è perfettamente sintetizzato tutto quello che ho detto da questo bellissimo lavoro del 2020 se non sbaglio in cui è un lavoro di un gruppo italiano in cui praticamente si evidenzia come noi non abbiamo soltanto una ischemia arteriosa o una Nomi abbiamo una ischemia arteriosa senza e con perfusione abbiamo due evidenze diverse che identificano dei quadri radiologici che sono completamente differenti guardiamo un pochetto a prescindere dal fatto che sia in presenza di una occlusione o non occlusione e va bene questo ci sta ma se guardiamo ai segni per esempio del mesentere nel caso di ischemia da occlusione arteriosa o da non occlusione arteriosa abbiamo il pei mesenteri il cosiddetto mesentere pallido mentre nel caso della riperfusione tutt'altro abbiamo praticamente l'insurriciamento nel mesentere ma andiamo oltre questo insurriciamento era simile a quello che noi avevamo nella parte venosa l'ischemia venosa poi altro elemento molto importante nell'ischemia pura senza fenomeni riperfusivi io ho il papertine appearance of the wall cioè ho la parete intestinale che è assolutamente sottilissima come un foglio di carta cosa totalmente diversa avviene quando io riperfusione sia nella causa occlusiva sia nella causa non occlusiva questo ispessimento ovviamente è dato dall'aumento praticamente di pressione all'interno praticamente della parete intestinale se siamo oltre il limite questo si traduce nell'emorragia in quel segno di ipersensibilità invasale e abbiamo detto come questa evidenza di spessimento intestinale è propria delle forme riperfusive arteriose ma sicuramente è propria della forma venosa signa dalle dalle prime ore e ora in qualche modo passiamo al trattamento perché il radiologo del 2022 del terzo millennio chiaramente è un diagnosi interventista quindi in un certo senso si occupa anche di capire a che cosa serve il referto e cosa c'è dopo il referto il management dell'ischemia intestinale è molto tempo di dependente non siamo a livelli prima facevo la battuta e la farò del tamis bowel del cuore o dell'encefalo però è molto importante e vedremo che la mortalità varia a seconda dell'installazione dell'appropriato trattamento 0-10% del trattamento immediato fino all'80-100% di mortalità addirittura quando ho più di 24 ore dall'insorgenza dei sintomi e il cut off approssimativo ovviamente è 6 ore 6 ore servono per creare un danno ischemico irreversibile ma se noi andiamo a vedere quella che è l'ischemia persistente teoricamente ripeto e poi capiremo il perché il cut off per la rivascularizzazione è appunto dato dalle 6 ore perché perché quando io rivascularizzo oltre quelle 6 ore non faccio altro che simulare la stessa cosa che succede quando sono presenti i fenomeni di rivascularizzazione arteriosi e occlusivi non occlusivi in un momento in cui non sono più in presenza di una omeostasi di parete quindi che cosa crea crea l'emorragia intramurale perché il vaso quella porzione intestino è praticamente andata se io voglio salvare ovviamente devo instaurare un trattamento precoce prima della fase peritonitica in teoria il cut off sarebbe come avevo detto la pneumatosi perché la pneumatosi è diciamo il segno più frequente di necrosi trasmurale ma in realtà se vado a vedere in letteratura non ci sono tre esterandomizzati cioè l'ischemia intestinale esiste da quando esiste il mondo in realtà quando andiamo a vedere quello che è un management quello che è una linea guida ci troviamo in forte difficoltà e anche i lavori che cercano di spiegare un po' quelli che sono gli outcome delle diverse terapie in un certo senso bisogna leggere tra le righe faccio l'esempio di questa meta-analisi del 2017 che è praticamente l'ultima noi abbiamo una letteratura anche delle linea guida che stranamente si fermano al 2016 e al 2017 veniamo da questa meta-analisi abbiamo 30 giorni di mortalità ovviamente non sto a significare che se noi andiamo a guardare è un assolutamente un comitato solamente di chirurghi abbiamo che la terapia endovascolare ha una mortalità del 17% e la terapia chirurgica ha una mortalità del 38% però andiamo a traslare questo dato nella nostra quotidianità quando andiamo a parlare col nostro chirurgo maggiori sono le comorbidità del paziente maggiore il rischio che il nostro chirurgo ci dice io non ci metto mano cominciamo con la parte interventistica e in questo si traduce e si capisce bene quel dato cioè si capisce perfettamente quello che praticamente è il target di pazienti in cui noi praticamente operiamo e ovviamente la terapia endovascolare comparata a quella che praticamente è l'impatto la comorbidità di una terapia chirurgica ovviamente è assolutamente incomparabile purtuttavia se noi andiamo a guardare alle linee guida oggi le due linee guida di riferimento nel 2022 sono la linea guida della società europea della chirurgia d'emergenza e la società americana come vedremo mentre la linea guida europea è abbastanza dettagliata evidenza per evidenza l'embolia la trombosi la venosa la nomi quella americana è assolutamente molto diciamo sfumata come indicazione e chiaramente se noi andiamo a iniziare il trattamento dell'ischemia diciamo che era chirurgia e la scelta tra chirurgia e trattamento endovascolare si basa sull'esame clinico e ovviamente sull'angio TC fino a qualche anno fa la terapia chirurgica era la terapia il gold standard l'embolettomia la tromboendarterettomia il bypass ortomesenterico la resezione intestinale e la mortalità è alta pertanto il trattamento alternativo è sicuramente il trattamento endovascolare questo è un altro chart abbastanza complicata di un lavoro del radiographics di due anni fa e magari semplifico un attimino quelle che sono le indicazioni qual è l'indicazione dell'angiografia innanzitutto scordiamoci l'angiografia diagnostica che qualcuno ancora oggi in letteratura esalta per quanto riguarda la definizione della nomi diciamo che il bridge è il trattamento endovascolare cioè si entra in sala oggi soltanto se si deve fare qualcosa e per quanto riguarda il trattamento i pazienti con ischemia mesenterica acuta senza evidenza di infarto intestinale o pazienti non candidabili all'intervento chirurgico c'è un'opzione C che sveleremo alla fine cioè in combinazione con la chirurgia anche in caso di necrosi intestinale allora guardiamo un attimino in letteratura e vediamo che allora le siore non sono più un cut off per noi ma perché non lo sono ora lo spiegheremo le controindicazioni praticamente ho detto ci sono gli spiragli su questo sepsinatto insufficienza renale storia severa di allergia al mezzo di contrasto punto interrogativo perché se noi consideriamo l'insufficienza renale e l'allergia al mezzo di contrasto verso un trattamento endovascolare di un schemi intestinale stiamo anteponendo un elemento quad valetudine con un elemento quad vitem per la paziente sicuramente quello che sappiamo è che i trombolitici che sono quei farmaci che noi utilizziamo che vengono utilizzati nelle arterie coronarie nelle arterie praticamente carotidi per sciogliere un attimo il trombo ovviamente hanno delle controindicazioni che possono essere assolute nei pazienti con sanguinamento attivo perché di fatto è un paradosso con disorgere emorragici con recente ictus o ipertensione incontrollata relative con pazienti in gravidanza o sottoposti intervento recente di stacco di retina ma quali sono le armi a nostra disposizione la trombolisi locale che significa posizionare un cateterino e andare a mettere questa urochinase retipia o ora anche il tenecteplase che è il nuovo farmaco per la trombolisi trombectomia tromboaspirazione percutanea sono fondamentalmente quello che sentite nelle vostre scuole di socializzazione in tutti i distretti la PTA e lo stenting perché può essere associata un'angioplastica a un elemento a una trombectomia o una trombolisi o la combinazione delle diverse tecniche una volta si andava con un catetere nel vaso e si aspirava praticamente con una siringa io non sono anzianissimo però sono abbastanza in età per ricordare di questi cateteri con queste siringhe da 50 si aspirava in maniera molto pioneristica oggi esiste tutta una serie di device di cui non tratto non è oggetto della trattazione di oggi però siamo in un certo senso in un momento diverso per quanto riguarda le armi e le frecce nella nostra flaretra la trombolisi che vedremo è l'indicazione principale per quanto riguarda la trombosi arteriosa ha degli svantaggi cioè il fatto di mettersi lì col cateterino per tanto tempo e alti dosaggi trombolitici che possono ovviamente porre il rischio di emorragie cerebrali di emorragie in altri distretti la trombospirazione è mettere un cateterino e vedete come agisce la trombospirazione non facciamo altro che avere una pompa peristaltica che mi aspira per vedere il trombo che esce vedete e che chiaramente pulisce quella che è l'arteria in più ho anche dei sistemi che sono mutuati da quella che era la patologia arteriosa soprattutto il Rotarex per quanto riguarda la trombectomia con questi sistemi vedremo anche l'utilizzo la PTI è lo stenting perché come vi dicevo per esempio la trombosi arteriosa si instaura su una aterosclerosi ostiale allora dopo che facciamo la nostra trombolisi molto spesso andiamo a fare una PTI o uno stenting questo per esempio è un classico caso di embolia guardiamo il reperto non è all'origine quindi non è ostiale da un cutoff e ha dei segni praticamente all'interno molto focali questo è un embolia andiamo praticamente ad aspirare e ricostituiamo in un certo senso quella che è la perdita del vaso abbiamo dei diciamo dei residui in questo caso possiamo mettere anche una trombolisi in aggiunta a questo perché come dicevo molto spesso si va a fare quello che è la custom custom made therapy cioè la terapia che è in un certo senso customizzata con le condizioni anatomiche del paziente che è quello che noi troviamo durante l'intervento questa è l'attack secondaria si vede la pervietà praticamente dell'arteria mesenterica superiore questo è un altro caso è un altro caso ovviamente questo è un cutoff sign questo è un altro caso imbolico non è anche questa volta ostiale e anche qui si va ad aspirare tutto quanto si vanno a fare i controlli e questo è diciamo il risultato finale oppure possiamo trovarci di fronte per esempio questa è una trombosi di uno stent vedete in laterale che lo stent è chiuso si va a riaprire lo stent e si va a ricreare la pervietà e la vascularizzazione praticamente mesenterica questo è il controllo possiamo anche trovarci questo è un caso di una signora a 94enne che ha questa aterosclerosi molto marcata delle arterie mesenteriche sia superiore che inferiore e ha già segni di livellazione intraeree e dal diciamo da un approccio brechiale che è sempre indicato nei casi in cui dobbiamo andare a fare mesenteriche si va a ricanalizzare l'arteria è un'arteria che dava anche una replaced right hepatic artery e si va a ricreare praticamente la vascularizzazione dell'arteria mesenterica quindi tornando a quelle che sono le linee di vita le linee di vita dovrebbero essere molto precise nell'embolia quando non c'è evidenza di necrosi intestinale le tecniche endovascolari dovrebbero essere tentate e ovviamente tutto il resto tutto quello che ne abbiamo a disposizione per quanto riguarda la TAMI quindi la trombosi nella trombosi la trombosi regionale rappresenta il gold standard quindi dovrebbe essere tentata praticamente sempre ovviamente anche a questo possiamo aggiungere il PTA stent e tromboaspirazione questo è sottolineato anche dalle linee guida della European Society of Bascular Surgery e infine per quanto riguarda la trombosi venosa qualche tempo fa non c'era la parte la linea guida americana non dà nessuno spazio all'interventistico invece oggi diciamo che lo shunt portosistemico la TIPSO o l'aspirazione o la ricanalizzazione transepatica sono stati in un certo senso avvocati come interventi che oggi possiamo utilizzare vi ho portato a fare il proposito un caso è un caso non proprio di trombosi diciamo di coagulazione ma di trombosi venosa attraverso il fegato siamo in grado di ricreare praticamente rivascolarizzare e ricreare praticamente quello che è il sistema porto spleno portale e cosa dire della nome la nome è l'ultima arrivata teoricamente l'indicazione la nome è solo farmacologica l'indicazione che è migliore l'indicazione l'indicazione non sono anche l'indicazione l'indicazione ha azione arteriosa di prostaglandine o di papaverina dissezione ortica ne parlo esclusivamente perché vi parlo solo di questo lavoro che rappresenta una notte in cui da due considerate che ci sono 30 casi descritti in letteratura di dissezione come dire isolata dell'arteria mesenterica superiore sono successe nella stessa notte alla stessa ora ci chiamano praticamente a due ospedali diversi della provincia c'erano due pazienti che avevano praticamente la dissezione questo è il lume falso parzialmente trombizzato questo era quello che noi avevamo praticamente all'arteriografia una dilatazione aneurismatica del falso lume che abbiamo trattato con spirali questo è il primo caso nel tempo si vide spirali forme si vede bene si intravede qui mettiamo esattamente la stessa terapia che si utilizza per la distezione tipo per la distezione di compito prossima la chiude l'ultima linea guida della New World Journal gas intestinal saggi e guardate qua quando si parla di stratificazione del rischio paziente con ischemia mesenterica acuta ovviamente peritonite o shock che teoricamente rappresenterebbero il cut off per la terapia interventissima dicono beh c'è peritonite o shock allora che cosa facciamo andiamo alla parotomia ma guardate che cosa dicono i chirurghi io vado a fare la parotomia sempre con l'embolettomia endovascolare sempre con la trombolisi endovascolare sempre con la trombettomia endovascolare questo perché perché se voi rivascolarizzate a parte il fatto che ci sono le patologie per esempio che in cui non abbiamo noi per esempio quando io ho un evento embolico un evento microembolico io ho diverse zone dell'intestino che sono in diverse timing non ho sei ore che vale per tutto l'intestino pertanto rivascolarizzando tentando di prendere qualche embolo io sono in grado di recuperare quanto più io riesco a recuperare quanto più faccio con la trombolisi quanto più di lato quell'arteria ci sarà una demarcazione tra una zona in tempo e la zona praticamente già con necrosi transmurale quindi questo lo dicono i chirurghi ovviamente la parte B è la parte che riguarda noi quando non c'è per i tonite non c'è lo shock allora si apre quella che era l'indicazione standard classica delle terapie endovascolari quindi l'embolettomia più trombolisi la trombolisi piangioplastica insomma tutto quello di cui abbiamo parlato finora allora io concludo con la stessa diapositiva con cui ho cominciato nel 1926 la diagnosi era impossibile la prognosi era senza speranza e il trattamento era inutile in realtà al centro oggi per virare verso il successo c'è il radiologo e siccome io ho visto in diverse presentazioni che poi alla fine si parla molto di aforismi si finisce sempre con un aforisma finisco con questo aforisma che non è solo per quello che facciamo che siamo ritenuti responsabili ma anche per quello che non facciamo cioè la stessura di un referto di pronto soccorso dettagliato per quanto riguarda l'ischemia intestinale è fondamentale e termino con una frase del mio professore Giorgio Blandino che è il motivo per cui faccio questo lavoro che in radiologia si vede solo quello che si conosce tante volte io vedo praticamente la tomba del radiologo e le re-x torace perché non sappiamo tutto quello che sapevano i nostri predecessori grazie per l'attenzione e grazie ancora Alessandro per l'opportunità grazie infinito Antonello molte grazie per questa splendida relazione ma soprattutto anche per le informazioni che tu hai dato i messaggi della fondamentale quello che mi è piaciuto di più è stato quello che il radiologo del futuro è un radiologo diagnosta interventista e questo è un messaggio fondamentale che dobbiamo dare ai nostri colleghi anche ho pensato molto questo passaggio fondamentale di quello che era la tomba del 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 mi senti senti ti sento un po' male e anch'io però sì ora meglio ora meglio noi dicevo che l'ischemia intestinale prima si moriva sicuramente oggi non si muore più e questa è una cosa secondo me è fondamentale so che Mariano è in linea Mariano mi sentite? salve ciao Mariano ciao ciao Antonello ciao Alessandro è bellissima questa questa presentazione che hai fatto che hai fatto Antonello ho letto molto di tuo no vabbè insomma purtroppo la verità è che è proprio quest'ultima diapositiva che hai detto cioè prima non si faceva la diagnosi purtroppo la continuiamo ancora un poco a sbagliare oppure a riconoscerla tardivamente perché purtroppo tu hai fatto vedere molto diciamo efficacemente che mentre le forme occlusive non le perdiamo quasi tutte c'è questo grosso problema che oggi rappresenta la Nomi no? che abbiamo scoperto in senso cronologico per ultimo per ultimo perché perché in realtà sono appunto questi pazienti che noi abbiamo con cui abbiamo a che fare oggi che sono ovviamente sempre più anziani sempre con più patologie sempre più cardiopatici sempre più operati ora volevo semplicemente sottolineare quello che tu hai detto benissimo è che in realtà se non siamo noi a porre il problema no? il problema non viene non viene molto spesso percepito anche dagli stessi dagli stessi medici perché in realtà il paziente sta in rianimazione paziente anziano paziente cardiochirurgico paziente operato paziente anche operato a livello addominale e il chirurgo addominale pensa alla patologia addominale e magari dimentica che esiste una problematica più generale e allora ecco che il radiologo in questo tante volte rappresenta quell'anello di congiunzione per cercare per cercare di capire la cosa mi è capitato di recente una cosa simile dove in realtà un paziente che aveva avuto un'emicolectomia non si capiva perché come mai questo paziente continuava a stare in rianimazione perché anziano pur di patologia e non ricanalizzava in realtà non era il problema della resezione ma era un problema più generale allora certe volte ecco noi siamo chiamati a dover mettere insieme certi certi tasselli di un puzzle non proprio semplice ecco quindi la necessità di guardare le immagini non so se siete d'accordo guardare le immagini sì non dimenticare il paziente e cercare di anche vedere e di mettere insieme quei segni che non ci sono esattamente infatti io ho detto che ti alza l'alert il fatto che il paziente viene dalla rianimazione cioè io dico ai ragazzi viene dalla rianimazione quindi state attenti perché questo è della popolazione che può avere nomi esattamente che può avere nomi cioè questa categoria di pazienti e sono proprio i candidati ideali ad avere questo tipo di problema anche perché la sintomatologia la sintomatologia un paziente per esempio intubato ancora intubato non te la dice per cui esattamente bisogna stare attenti esattamente ed è anche questo il motivo per il quale noi l'abbiamo riconosciuta alla fine questa patologia perché sostanzialmente prima non è che prima non esisteva sono piene le fosse di questi problemi soltanto che ovviamente bellissimo mi sono goduto una grande lezione veramente complimenti anche perché poi c'è la parte interventistica è un grossissimo argomento grazie grazie a voi grazie a voi grazie Alessandro grazie a te grazie grazie a voi per questo tandem a questo punto devo dare il prossimo appuntamento indovinate chi ci abbiamo a pranzo o a cena il professor scaglione quindi la prossima lezione sarà fatta da Mariano il quale ragazzi sta preparando il capitolo guida io lo dico ufficialmente davanti a centinaia di persone così non si tira dietro capito è tutta un'operazione questa è tutta un'operazione dobbiamo un attimino avere la pazienza di qualche specializzando che ci dia una mano in tutto questo io ce ne ho tanta se vuoi ti rimetto a disposizione bene benissimo 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 ragazzi allora ragazzi grazie di aver partecipato anche oggi tanti link vi ringrazio e l'appuntamento è a martedì prossimo grazie Mariano grazie Antonello grazie Alessandro grazie Antonello ciao Mariano ciao 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 Alessandro